Questa serata l'apriremo come di consueto con il nostro format esclusivo il CEO Summit dal titolo che vuole essere anche un monito di speranza. Le eccellenze raccontano la ripartenza, casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia. Invitiamo dunque sul palco i relatori. Cominciamo da Giuseppe Mura, CEO e founder di Lubea, Luca Carta, CEO e co-founder di Immobilion, Paolo Raffaghello, titolare Areco. Grazie per essere qui, nonostante le condizioni meteo, ma insomma, però almeno potete, vero è bella questa sala, potete fare da inviati speciali per raccontare cosa c'è in questa sala. Buonasera e benvenuti. Allora, presento nuovamente i nostri ospiti e poi iniziamo, insomma, il titolo lo ha già detto il collega Giacomo Iacomino, le eccellenze raccontano la ripartenza, casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia. Ed è sempre importante, al di là di tutte le riflessioni che si possono fare, portare degli esempi concreti, perché poi è quello che servono, è quello che serve per capire come si è riusciti andare avanti, nonostante un periodo veramente difficile e si può essere anche un po' da esempio, no? Per altri che magari in qualche modo stanno ancora cercando di capire come fare. E allora io, diciamo, dividiamo il nostro CEO Summit in due parti. Prima vi chiederò proprio la vostra esperienza, cos'è accaduto in questo ultimo anno e come avete fatto, come dire, anche a reinventarvi, perché poi è stata una delle parole chiave di questo momento e di questo periodo. E poi una frase che ci dà modo di guardare con ottimismo al futuro, perché è quello che dobbiamo fare. Allora, io partirei da Giuseppe Mura, CEO e Founder di Lubea. Dico proprio, racconto qualcosa di queste realtà, realtà che si occupa di consulenze e servizi nel settore delle telecomunicazioni e ICT, cioè Information and Communication Technology. Cominciamo con l'esperienza diretta di Lubea. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Mi è molto piacere essere qui stasera in questa splendida location e approfitto l'occasione per ringraziare te, Donatella, tutto lo staff delle fonti per l'eccellente organizzazione che avete avuto sia preventiva a questo incontro e all'organizzazione che vedo attualmente oggi in questo evento. Lubea l'è descritta perfettamente, un'azienda di consulenze e servizi che opera nel settore delle TLC e dell'ICT, nello specifico negli ambiti dell'ingegneria e della progettazione dell'infrastruttura e delle reti di telefonia e in fibra ottica nel nostro paese. Il caso di successo dell'Ubea, riassumerlo, più volte ho pensato poterlo riassumere in un unico elemento che potesse caratterizzare il nostro successo. In realtà il nostro successo è legato dalla combinazione di più elementi che fanno parte della mission della nostra azienda e che in lubea sono caratterizzati da cura verso il cliente, da professionalità che mettiamo in campo, da competenze tecnologiche e da tutta una serie anche di altri aspetti che praticamente possono essere digiunti, quali da quelli che ho appena citato, quali per esempio l'etica, il fatto di essere un'azienda inclusiva, la comunicazione, la cultura, tutti aspetti che però all'interno della nostra azienda possono essere considerati come costituire un unico corpus che viene e prende vita all'interno della vision che noi abbiamo avuto sin dall'inizio. La nostra azienda infatti nasce nel 2017, è particolarmente giovane, però abbiamo voluto dare un target molto molto particolare, nel senso che abbiamo voluto avere sin dall'inizio e qui premetto che questa filosofia di business che noi abbiamo avuto sin dall'inizio non ci ha trasformato nel periodo durante il Covid, cioè ci ha aiutato a poter consolidare il nostro business. Abbiamo cominciato sin dall'inizio ad avere un approccio molto business ethics oriented, lasciatemi dire, che ha tralasciato vecchie concezioni che per noi sono ormai datate e obsolete della vecchia filosofia del business is business, nel nome del quale spesso vengono danneggiati i dipendenti dell'azienda, non sono a tutela dei dipendenti, non sono a tutela dei clienti o comunque non sono neanche a tutela di rapporti etici e corretti di business anche verso i propri competitor. L'azienda si è da subito distinta per una filosofia molto inclusiva proprio interno e ha portato anche, lasciami dire, grande valore all'azienda il fatto che noi abbiamo pensato a tutelare i nostri clienti, perché siamo convinti che mettere l'azienda nella sua centralità e pensare solo agli interessi dell'azienda non sia una politica lungimirante. Invece noi abbiamo preferito sin dall'inizio dare grande centralità ai nostri dipendenti, quindi tutelare i nostri dipendenti e i nostri clienti, che se mi consentite di usare una metafora automobilistica, consideriamo i nostri dipendenti come il motore dell'azienda e i nostri clienti come il carburante. Una macchina può essere la più bella macchina di questo mondo, quindi l'azienda può avere tanti margini, può avere dei fatturati importanti, però alla fine non è una politica che poi premia la lunga. E proprio questo approccio durante la pandemia ci ha consentito di avere sostegno di ritorno da parte dei nostri clienti e anche poter mantenere al nostro interno le competenze che avevamo. Infatti, tengo a precisare, l'Ube è un'azienda che nonostante non avesse la possibilità di mettere le proprie risorse, cassa integrazione in deroga o straordinaria, non lo ha fatto. Questo chiaramente ci ha creato delle difficoltà, soprattutto nei primi sei mesi del 2020, però alla fine ha premiato la lunga. Chiudo, perché so che mi sto dilumendo troppo, io parlo tanto, quindi probabilmente sforerò anche il tempo che è a disposizione, però adesso chiudo subito. Altri due elementi importanti, che l'azienda ha sempre avuto una spinta innovativa molto, molto forte. Siamo sempre molto attenti alle soluzioni innovative presenti sul mercato e le acquisiamo per dare, per poter offrire ai nostri clienti delle offerte integrate di prodotto più servizio. Non sviluppiamo internamente, perché abbiamo preferito come scelta strategia quella di prendere il meglio che c'è sul mercato e poter essere competitivi in questo settore. Poi ci sono tutta un'altra serie di attività che hanno chiaramente portato l'azienda a essere quella che è oggi, però purtroppo non è il tempo per poterle... Poi ci sarà modo, sono certa, questo è proprio un modo appunto per cercare di far capire come oggi siete arrivati, magari più forti di prima, no? Esatto. Non ci siamo trasformati, siamo andati avanti per la nostra strada, semplicemente. Ecco, perfetto, perfetto. Beh, questo è già un buon punto di partenza, vuol dire che già prima avevate messo in campo comunque delle modalità che poi sono risultati... Anche perché oggi l'azienda viene considerata affidabile, credibile, è un'azienda sulla quale investire. Ottimo. Poi sono curiosa di sentire la frase per il futuro, ovviamente, dopo però. Allora, Luca Carta, CEO e co-founder di Immobilion. Immobilion è un'azienda innovativa, costituendo in società per azioni, a seguito della fusione di alcune storiche e realtà del gruppo, che opera nel settore del real estate e degli investimenti immobiliari, concentrando la propria attività su tre principali macro aree, il saldo a stralcio, l'acquisto di crediti immobiliari e lo sviluppo immobiliare di cantieri. Sentiamo anche l'esperienza appunto di Luca Carta, che ringrazio per essere qui. Grazie dell'opportunità e buonasera a tutti. Come hai giustamente annunciato, Immobilion è una realtà che opera nel real estate, che è un settore molto tradizionale. Noi ci diversifichiamo dal mercato del real estate più che altro perché abbiamo deciso, proprio in epoca di Covid, di puntare sulle province italiane, a differenza di tanti altri operatori che preferiscono operare in operazioni speculative o immobiliari in generale sulle principali piazze italiane, come Milano, Roma, Venezia e Torino, noi abbiamo preferito operare in provincia. Questo perché abbiamo letto nella situazione Covid e nel lockdown una potenziale opportunità per le persone di migliorare la loro aspettativa di vita all'interno della propria abitazione, potendosi permettere di abitare in provincia ad un costo inferiore nell'acquisto della casa. Pertanto abbiamo deciso proprio in piena pandemia di andare a fare questo processo di fusione di alcune società attive dal 2009. Le abbiamo confluite in un'unica società operazioni che sarà un'SPA innovativa in quanto abbiamo registrato un software che ci consente tramite 32 controlli di andare a verificare dall'acquisizione dell'immobile allo sviluppo e la riqualificazione e il riposizionamento sul mercato. Quello che può essere per i nostri investitori, poiché noi facciamo operazioni in club deal aperte anche ad investitori, dà quella garanzia di successo onde evitare che il capitale messo a disposizione non abbia particolari rischi di perdita. Allo stesso tempo abbiamo deciso di creare un'unità di ricerca e sviluppo all'interno coordinata da un ingegnere robotico proprio perché il nostro focus è quello di migliorare la vita delle persone. Migliorare la vita delle persone, la tecnologia, l'automazione, la robotica ci può aiutare tantissimo nel fare questo. Quindi penso a categorie più deboli e svantaggiate, penso a persone anziane. Ormai le case si possono controllare tramite smartphone e ci sono tantissime funzionalità che vengono incontro a quelle che sono esigenze reali di chi abita la casa. Allo stesso tempo la pandemia per noi è stata una grande opportunità perché e lo sarà sempre di più nei prossimi anni purtroppo, tra virgolette, poiché quando ci saranno un po' gli sblocchi dei licenziamenti e quant'altro ci sarà una forte crisi e una forte crisi vorrà dire avere dei portafogli di crediti deteriorati e di operazioni e di persone di situazioni incagliate di sofferenze bancarie che consentiranno a un'azienda come la nostra che fa del core business l'attività di saldo e stralcio e acquisto di crediti immobiliari una grande opportunità da sviluppare per noi e per tutti i nostri investitori in quanto abbiamo deciso di aprire il capitale sociale a club deal di investitori retail e professionali. È stato un percorso molto tortuoso, molto anche impegnativo a livello economico, fortunatamente siamo stati accompagnati in questo percorso dallo studio legale dell'Avvocato Pagano e dell'Avvocato Marini che ci hanno veramente supportato in questa attività che è stata un'attività molto onerosa, molto importante ma che sono sicuro che ci porterà a traguardare quello che è un po' il concetto di case, di abitazione dei prossimi 30 anni. Certo, non sempre si può prevedere tutto però se si mette in moto comunque un meccanismo virtuoso magari qualcosa si può tamponare. Facciamo del nostro meglio. Lei ha detto una cosa interessante, spesso usiamo ormai, usiamo la parola la nuova ondata solo per parlare del Covid. In realtà ci saranno tante nuove ondate come quelle che lei ha citato, lo sblocco dei licenziamenti e quindi che porterà inevitabilmente ancora a maggiori crisi e a maggiori situazioni che dovranno essere monitorate nel vero senso della parola. È questo che dobbiamo vedere oggi. Assolutamente, è una cosa su cui puntare. C'è anche un'altra direttrice a mio avviso molto importante che è quella del green. Noi abbiamo deciso una soluzione molto innovativa su cui personalmente credo molto, andiamo a costruire e riqualificare case portandole in classi energetiche alte. Ma mentre lo facciamo inquiniamo, perché l'impresa che costruisce inquina. Noi andiamo a misurare quanta CO2 emettiamo costruendo o riqualificando le case e alla fine del cantiere decidiamo di piantare dei bambusetti, che sono delle piantagioni che assorbono molto la CO2, in modo da essere veramente a impatto zero sull'ambiente. E questo è proprio il green, voglio dire, è il tema del mondo. È il tema del prossimo decennio. Esatto, esatto, assolutamente. Per Areco, Paolo Raffaghello, titolare. Areco è una realtà leader nazionale nella produzione di vernice in bombole spray. La struttura è in grado di soddisfare sia le piccole che le grandi tirature, sia il grande cliente multinazionale che la piccola industria locale, mantenendo inalterata l'alta qualità del servizio. La vostra esperienza. Buonasera, io sono la seconda generazione della Riccitalia. Mio padre ha fondato la ditta nel 71, quindi quest'anno facciamo 50 anni. Complimenti perché è un importante compleanno. Esatto, ci siamo trasferiti due anni fa dalla vecchia sede alla nuova sede. Abbiamo un know-how innovativo perché noi all'interno produciamo tutta la nostra componentistica. Noi non facciamo solo la bomboletta come riempimento. Noi facciamo proprio la bomboletta, facciamo le cupole fondi, facciamo la parte in plastica e facciamo anche la produzione di vernice. Quindi la nostra tecnologia è abbastanza all'avanguardia a confronto agli altri proprio per il fattore che all'interno noi produciamo tutto. Non solo, ci facciamo anche i nostri macchinari. Quindi noi abbiamo fatto una ricerca e sviluppo sia dalla parte della formula, della chimica, della tecnologia, degli impianti, di tutto quello che è il nostro prodotto e il nostro know-how. No, più chilometro zero di così non si può. Sì, infatti. Poi logicamente essendo una ditta chimica per noi ricerca e sviluppo è fondamentale. È certo, certo. Quindi logicamente poi con tutto quel problema di quest'anno e dell'anno scorso per le materie prime quindi non è solo stato un problema di produzione dal punto di vista di prezzi ma anche di approvvigionamento dei materiali. Certo. Logicamente quindi noi modestamente noi abbiamo avuto la fortuna di non fermarci mai perché essendo un settore strategico abbiamo avuto una grandissima fortuna. Quindi non è merito nostro che non ci siamo fermati ma avevamo la fortuna di avere il codice Ateco che Conte ci ha permesso di poter produrre. Poi vabbè, logico, diciamo che noi essendo da tanti anni in questo settore logicamente abbiamo avuto anche la bravura di poterci rinnovare. Ti stavo dicendo, essere al posto giusto nel momento giusto è sempre importante però poi se sei in un posto in quel momento non sei capace di sfruttarlo. Però noi preferiamo sempre essere modesti. L'umiltà fa sempre bene, certo. Perché logicamente c'è sempre qualcuno che vuole essere più bravo di noi, però noi diciamo che quest'anno noi abbiamo fatto un bel 25% in più del fatturato dell'anno scorso e anche l'anno scorso abbiamo fatto più 25% quindi diciamo che quest'anno, anche come l'anno scorso, pensiamo di chiudere molto bene il nostro fatturato. È stato un anno positivo comunque, grazie anche alle basi solide di cui parlava, certamente. Quindi festeggeremo il cinquantesimo con un bel futuro, diciamo. Ottimo. E allora a proposito di futuro, prima di chiudere questo nostro CEO Summit ripartirei da Giuseppe Mura per, insomma, in una frase, la chiave di successo per la ripartenza. Noi la vogliamo definire in questo modo, cioè come guardare al futuro, insomma. Però è bello, una frase, uno slogan, non so, decidete voi. Mi metti in difficoltà. Allora, nel senso che, allora, io penso che più che uno slogan analizzerei molto velocemente di cosa un'azienda come la nostra ha bisogno per poter continuare a crescere e poter garantire la nostra tipologia di servizi. Lasciami dire che in un'epoca come quella nella quale stiamo vivendo, dove i rapporti personali sono sempre più rari, anche in termini di business, quello cosa guarda oggi il nostro cliente? Il nostro cliente guarda quattro elementi, fattori fondamentali. Guarda l'efficienza, guarda le professionalità che un'azienda mette in campo per sostenerli, guarda che la soluzione proposta sia cost efficient, cioè quindi ci sia un rapporto qualità-prezzo adeguato, e guarda l'innovazione, che è fondamentale. Quindi questi sono i quattro aspetti sui quali l'Ubea punta per un rilancio e per un'ulteriore crescita oggi. Una frase di slogan, difficilmente abbia riassunto questi quattro elementi, però ho preferito elencarteli per dare il... Va bene, possiamo prendere l'acronimo che noi che è, facciamo... Sì, è efficienza, professionalità, abbiamo detto cost efficient, quindi mettiamo C, oppure C, va bene, EPCI, viene anche un bel acronimo, vedi, abbiamo trovato comunque un modo originale per guardare al futuro. Allora, Luca Carta Immobilio, stessa cosa chiedo a lei, un no a un... Non ho neanche io una frase, uno slogan prestabilito, però noi abbiamo deciso di puntare il nostro focus sul migliorare la vita delle persone. Lo facciamo attraverso gli immobili, lo facciamo attraverso la soluzione dei saldi a stralcio o l'acquisto di crediti deteriorati. Secondo il mio punto di vista si sta aprendo un'era che è una rivoluzione industriale, economica, ma anche di coscienze. Quello che dobbiamo andare a fare è tornare sull'importanza dell'individuo e aprirci alla condivisione per quello che noi abbiamo aperto ad operazioni immobiliari in Club Deal e abbiamo aperto il capitale sociale. Il futuro starà nell'unione e nella concentrazione di quelle che sono le reali esigenze delle persone. Lì si vincerà la partita. Sono diverse, però saranno ancora poi mirate le decisioni da prendere. Perfetto. Paolo Raffaghello. Bene. Io direi invece fare rete è la cosa che uno può... Secondo me, non dico che è l'unica regola, ma sicuramente fare rete con piccole realtà, perché l'Italia è tendenzialmente di piccole realtà, logicamente per superare quella massa critica, che magari può essere una multinazionale o roba del genere, pur rimanendo se stessi. Quindi questo, secondo me, potrebbe essere molto utile per la società. Ottimo. Rete, sinergia. Sinergia. L'unione delle forze, però tutti ognuno magari rimanendo, cioè non per forza fondendosi in un gruppo, cioè uno. No, certo. Mantenendo la propria... Mantenendo la propria identità, perché logicamente... Esatto, esatto. Però poi cercando di assemblare al meglio, diciamo, tutte le varie caratteristiche, che è un po' quello che bisognerebbe sempre fare, perché poi le diversità in questo caso sono davvero... Infatti, perché l'Italia è il fattore dell'unicità, è molto importante, secondo me. Assolutamente. Ottimo. Ottimi spunti anche questa sera nel nostro CEO Summit. Io ringrazio quindi Giuseppe Mura, CEO e founder di Lubea, Luca Carta, CEO e co-founder di Immobilion e Paolo Raffaghello, titolare di Areco, perché con diverse esperienze però siamo arrivati all'unica conclusione, no? Che bisogna guardare avanti, crescere sempre di più, però con le basi che già abbiamo, no? È emerso che comunque non è che ci si è modificati, si è proseguito un percorso ovviamente ampliando gli orizzonti. Questo è un po' il tema di partenza. Quindi complimenti, grazie per aver partecipato al nostro sessione. Grazie, Fontella. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.